16 anni e 8 mesi a Claudio Pinti, il 35enne di Agugliano, accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario per aver trasmesso il virus dell'HIV all'ex compagna, morta nel giugno 2017 e all'ultima fidanzata. Il suo legale faremo ricorso. Sfonda con l'auto un parapetto di cemento e precipita per 10 metri fino alla via sottostante, incidente da brividi a macerata in pieno centro a fianco dello Sferisterio. Basta chiacchiere, è ora di velocizzare il coro dei sindaci alla riunione con il commissario Farabollini, che annuncia più personale e comuni con la possibilità di sbrigare le pratiche di ricostruzione leggera nelle amministrazioni, come previsto nel decreto terremoto Etna. ...entro un mese il riavvio preliminare del cantiere e dentro aprile ripartenza a pieno regime con nuovo cronoprogramma per ultimare il... www.etgmarche.it ...e sulla nostra pagina Facebook. Apriamo, come avete visto dai titoli, sulla condanna a 16 anni e 8 mesi a Claudio Pinti, il 35enne di Agugliano, accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario per aver trasmesso il virus dell'HIV all'ex compagna, morta poi nel giugno del 2017, e alla sua ex fidanzata. Ma il suo legale annuncia già da oggi che faranno ricorso. Linda Cittadini. Non ascoltare assolutissimamente nessuna forma di negazionismo, di curarsi, di dar piena fiducia alla nostra sanità e alle cure, perché è quello che ammettiamo in vita. Denunciate se qualcuno vi fa del male. È l'appello di Romina, la donna che con la sua denuncia ha fatto partire le indagini su Claudio Pinti, l'autotrasportatore di Monte Carotto, l'untore HIV che negando la malattia ha infettato anche l'ex compagna deceduta per le complicanze, lasciando orfana la sua bambina. Pinti, portato dalla polizia penitenziaria in aula, è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni e 8 mesi di reclusione. I PM avevano chiesto 18 anni. Si prevedono a livello provvisionale diverse centinaia di migliaia di euro di risarcimento alle donne contagiate e ai familiari. Per la ricostruzione dei fatti è stato individuato un colpevole per la morte di Giovanna, evidentemente niente però potrà riportarle la congiunta, quindi nessuna somma di esarcitoria sarà mai sufficiente. È stata costretta a subire i condizionamenti del proprio compagno fino a decedere, quindi sostanzialmente è un ennesimo caso di violenza diretta alle donne. È una vicenda familiare molto triste perché la minore si è trovata in un colpo solo senza il padre e senza la madre prima, quindi la soddisfazione qui è relativa. La difesa annuncia l'appello. Adesso aspettiamo di vedere le motivazioni della sentenza che arriveranno fra 90 giorni perché è il tempo che il giudice ha preso per le motivazioni e poi ovviamente faremo appello. Sfonda con l'auto e il parapetto in cemento che corre lungo via Diomede e Pantaleoni dall'altra parte della strada rispetto allo sferisterio di Macerata e fa un volo di 10 metri sulla strada sottostante. Incidente shock a Macerata intorno alle 12.30 di oggi. Il conducente, un 43enne di Monte Cassiano, è stato soccorso e trasportato in aliambulanza all'ospedale di Torretti ad Ancona con un politrauma. Secondo gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di Macerata, dopo aver fatto la rotatoria di fronte allo sferisterio, il condicente dell'auto, una Suzuki Swift, ha imboccato via Diomede e Pantaleoni, strada che costeggia le mura del centro storico, ma fatti pochi metri si è scontrata con una Mercedes in sosta a sinistra della carreggiata. Dopo questo primo impatto l'auto ha tagliato la carreggiata, è finita sul marciapiede a destra della strada, ha sfondato il parapetto di cemento ed è andata giù, come vediamo anche adesso dalle immagini, verso la via sottostante Maffeo-Pantaleoni. La Polizia Locale di Macerata ha disposto agli accertamenti per capire se l'uomo avesse assunto alcol o droga. Restiamo sulla cronaca, nasconde 50 grammi di marijuana nelle mutande, denunciato un 19enne residente nella provincia maceratese con trascorsi penali per detenzione di stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente nell'arco di un controllo da parte degli agenti della pattuglia del nucleo radiomobile che lo hanno fermato nelle vicinanze della stazione di Macerata e poi in caserma. Qui il ritrovamento dei 50 grammi di marijuana avvolti in un involucro nascosto appunto nelle mutande. Pugni e calci agli agenti di polizia che lo avevano fermato dopo il furto di alcuni abiti in un negozio del centro in Viale Secondo Moretti a San Benedetto del Tronto. I poliziotti dopo la segnalazione del furto si sono messi alla ricerca del ladro, rintracciandolo in pochi minuti. Un GM appunto, un pregiudicato di 36 anni, è stato trovato dagli agenti in processo della refurtiva e ha opposto resistenza colpendoli con calci e pugni. Gli uomini hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il ladro è stato arrestato per furto, lesioni e resistenza pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Ascoli. Basta chiacchiere, è ora di velocizzare il coro dei sindaci alla riunione con il commissario Farabollini che annuncia più personale ai comuni con la possibilità di sbrigare le pratiche di ricostruzione leggera nelle amministrazioni come previsto nel decreto terremoto Etna. Vediamo. Si sta parlando oramai da parecchio tempo. Bisogna che ci danno dei segnali ben precisi su quello che c'è da fare e su quello che loro hanno intenzione di alleggerire. Siamo fermi, così non va bene. Si va avanti, i nostri territori rischiano di scomparire. Vediamo che si riesca comunque a vedere qualcosa. Le promesse sono state fatte tante anche in altri incontri, però vogliamo essere soli fatti. Quello che si sta sbloccando oggi deve essere sbloccato un anno fa forse. Ecco perché è la ragione per la quale non va. I sindaci del sisma sono arrivati carichi alla riunione ad Ancona con il commissario Piero Farabollini dopo le misure shock per dare impulso alla ricostruzione annunciate dal sottosegretario Vito Crimi ieri in audizione alla Commissione Ambiente della Camera per velocizzare le pratiche e quindi la rinascita dei territori. Il commissario da un lato conferma lo sblocco per le perimetrazioni nei comuni dove erano state stoppate e dall'altro conferma novità per accelerare le pratiche da inserire nel decreto terremoto Etna. Alcune proposte che noi abbiamo pensato per velocizzare la ricostruzione che vedono in prima linea i sindaci ovviamente richiedono delle modifiche alla normativa. Le B e le C da assegnare ai comuni ovviamente potenziando gli uffici con del personale. Queste due proposte vanno in emendamento attraverso quello che noi auspichiamo sia il prima possibile con il decreto areale Etneo. Sulla privata non basta spostare dall'ufficio ricostruzione dei comuni che già sono protagonisti nella ricostruzione privata delle leggere ma occorre semplificare proprio il meccanismo, il metodo, trovare formule più semplici che non sia una pratica ordinaria. Restiamo in area a cratere. Si è conclusa la prima fase della campagna di ascolto della CISL nei luoghi del sisma. Questa mattina la conferenza stampa con i primi risultati. Roberto Properzi. Vicini alle persone, vicini al territorio, in ascolto dai bisogni reali e delle aspettative delle popolazioni colpite dal terremoto tre mesi, otto assemblee pubbliche e tre porta a porta in aree SAE. E' questo quello che ha fatto la CISL di Macerata e Tolentino. Abbiamo proprio toccato con mano il calore delle persone radicate in questa terra con voglia di raccontare, di essere ascoltate e alla fine ci hanno anche ringraziato per essere intervenuti in quelle zone. E quello che emerge, quello che voglio sottolineare, è la residenza di queste persone, l'attaccamento a queste terre. Il risultato principale della campagna è stata la raccolta di ben 507 questionari. E' un questionario che per noi è stato importante perché ci ha permesso di raccogliere molti dati, molte percezioni e anche molte richieste e esigenze di intervento. Il 74% delle persone con cui abbiamo parlato oggi è fuori casa perché o vive in una SAE oppure vive in un'abitazione diversa dalla propria e sta percependo il CAS. Tra queste persone c'è tanta incertezza, un'incertezza che rischia di diventare rassegnazione rispetto ai tempi della ricostruzione. Il 45% di queste persone infatti colloca il rientro nella propria abitazione ha non prima di 10 anni ed è molto amaro, davvero molto amaro il fatto che una persona su 5 ci abbia detto che non rientrerà mai, non riuscirà mai a rientrare a casa propria. Infine ricordiamo un appuntamento importante per il prossimo step della CISL. L'iniziativa del 21 marzo che coinvolgerà la regione, coinvolgerà i sindaci, serve proprio a questo, cominciare a partire da quello che abbiamo ascoltato a chiedere alle istituzioni, non più le passerelle ma le risposte concrete. Si è discusso di ripartenza graduale dei cantieri quadrilatero tra Marche e Umbria a Fabriano in un incontro fra il contraente generale Astaldi e sindacati di categoria Filea, Filca e Feneal. Si sta procedendo alla stipula di nuovi contratti con le ditte subalpaltatrici alla luce del nuovo accordo e il programma dei lavori e pagamenti tra quadrilatero, Dirpa e Astaldi, spiegano le parti sociali, proseguono intanto le convocazioni dei lavoratori, ora in cassa integrazione o dislocati in altri cantieri Astaldi. Sembrerebbe così drenearsi, spiegano i sindacati, una ripartenza di alcune lavorazioni in tempi brevi e propedeutici alla piena ripartenza. Confidiamo che in tempi stretti si possa avviare una ripresa delle lavorazioni sull'asse DSS 76, Pedemontana, Marche. La roadmap dovrebbe prevedere entro fine mese il riavvio preliminare del cantiere dentro aprile, ripartenza a pieno regime con nuovo cronoprogramma per ultimare il progetto quadrilatero. Il 29 marzo si celebra il ricordo di Carlo Urbani a 16 anni dalla scomparsa del medico eroe di Castelplanio. Vediamo. Il prossimo 29 marzo sarà il sedicesimo anno dalla scomparsa di Carlo Urbani, il medico eroe originario di Castelplanio, che pagando con la sua stessa vita contribuì alla ricerca per debellare la SARS, la polmonite atipica che esplose nel 2002 in Medio Oriente provocando più di 700 vittime, tra cui lo stesso medico marchigiano che tanto si stava impegnando per la cura dell'epidemia. Resta un esempio non solo per i tre figli, la moglie, la sua famiglia e la sua opera di bene continua attraverso l'associazione AICU. Diverse le iniziative in campo, tra cui il premio giornalistico che coinvolge i bambini e i ragazzi. In particolare al polo scolastico di Sant'Elpidio, intitolato proprio al medico, verrà inaugurata la mostra fotografica e documentaria sulla vita di Carlo Urbani e per il quarto anno si rinnova il premio per medici, biologi, infermieri. Le borse, che sono tre, per figure sanitarie che vogliono intervenire e lavorare nell'ambito sanitario o in paesi in via di sviluppo dove ci sono necessità, ma anche in altre realtà, sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo collaborato con InterSOS, che è una ONG italiana basata a Roma, in Italia. Per il 2019 la borsa sarà per supportare l'ambulatorio sociale gestito da InterSOS a Roma. A Iesi, all'istituto comprensivo Carlo Urbani, la novità riguarda un libro per bambini a cura dell'insegnante Ilenia Severini per raccontare ai più piccoli la storia di un eroe di ogni giorno. Hanno incontrato la mamma e i figli di Carlo Urbani e la moglie e questo fa sì che loro lo sentano proprio come uno di loro. Infatti questo libro inizia proprio dall'infanzia perché loro possano immedesimarsi, perché alla fine essere eroe nella vita di tutti i giorni significa guardarsi intorno, guardare le esigenze che hanno gli altri. L'astraordinaria passione che noi abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani lo abbiamo ancora di più in questi tempi difficili, dove non si parla come parlava Urbani della solidarietà, dell'accoglienza, della necessità di dedicare parte della nostra vita agli altri. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ricordo a seguire dopo di me le notizie continuano con la nostra rubrica Marche Flash e poi con le news sportive e con ETG Sport. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci! Grazie a tutti!